Allora, allora sei viva, ho temuto il peggio, che cos'è accaduto? Foncroy ha l'amuleto Ah, questo non è un bene, ma almeno non ha ancora l'armatura Siamo ancora in tempo per sperare di opporci a sé Jean, sono distrutta, non posso riposarmi un attimo Quando tutto questo sarà finito potrai anche ritirarti Dobbiamo girare in fretta, i miei uomini stanno conducendo degli scavi alla ricerca del palazzo di Cleopatra Cleopatra? Esatto, anche lei aveva inteso l'importanza dell'armatura e l'aveva fatta portare qui Anche se poi se ne sono perse le tracce E da dove credi sia meglio iniziare a cercare? Dalle catacombe sotto Alessandria I miei scavi hanno portato alla luce delle stanze che conducono fino alla grande libreria Non dovremmo essere troppo lontani dal palazzo di Cleopatra Anche se dobbiamo ancora trovare una via d'ingresso Ma tu... Indicami il luogo C'è un problema Foncroy Esatto, i suoi scavi iniziano a incrociare molti dei miei tunnel E chiaramente i miei uomini hanno smesso di lavorare dopo la scomparsa dei criminali di Foncroy E' ora di fare visita ai fedeli seguaci del vecchio Werner Per prima cosa devi infiltrarti nelle catacombe Foncroy le ha fatte sigillare e temo che troverà presto l'armatura Dovrà passare sul mio cadavere E' questo che non vorrei Attenderò tu le notizie Torna pure qui se ritieni che ti possa aiutare Buona fortuna Lara Che il destino ti sia favoreo Sono io a scrivere il mio destino